Vedere tutte le partite, allora via servizi. La Massese strappa i tre punti salvezza alla Coriacea San Benedettese dopo essere andata sotto di un gol all'inizio del secondo tempo. Meritato il successo degli Apuani, ma anche i Rossobludi o Golotti hanno dimostrato di poter guadagnare la permanenza in C1 senza spareggi. Cronaca molto fitta e dopo due minuti camisa alla palla gol che Pierini respinge di istinto. Meglio i marchigiani nei primi venti minuti, poi ci sono solo i bianconeri. Al ventottesimo cross di Zerbini e colpo di testa di Piccini, la Samb rischia qualcosa di troppo e Visi la salva su questa conclusione di Perricone. Subito dopo è Galli a fallire sotto misura, chi sbaglia troppo alla fine paga e al quinto della ripresa Curiale scattato sul filo del fuorigioco porta in vantaggio i suoi. Reagiscono subito i bianconeri con artistico e al sedicesimo arriva il pareggio di Diauguraga al termine di un'azione molto concitata. Il nervosismo si fa sentire e Ghisone viene espulso per fallo sul biglio. Entrano Carboni per Morini da una parte e Falco per Galli fra i bianconeri. Sarà proprio Falco al trentottesimo a firmare la vittoria dei padroni di casa. Lascia il campo per proteste anche Di Tiello e tenta una reazione la Samb mettesi ma sono solo palloni lunghi, preda dei difensori. Alla fine anche Carrara riesce a rimediare un'espulsione che poteva evitare.